L'anima del pollo volava in cielo e ho avuto una brutta sensazione. Fate pure tranquilli. Che Blanche a casa ci torna. Trovarsi al posto giusto. Sempre. Al momento giusto. Hai mai sentito parlare di una malattia chiamata isteria siberiana? È una malattia che colpisce i contadini in Siberia. Lavori ogni giorno nei campi e non vedi assolutamente nulla a te. A nord l'orizzonte. A est, a sud, a ovest ancora l'orizzonte. Non c'è altro. Una vita che si ripete ogni giorno allo stesso modo per anni e anni. Vieni avanti. Cammina. Cammini ancora. Sto parlando con il 274. È così. Non posso perdermi nel bosco, baby. Perché il bosco sono io. Nooo. 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 Noooo. Yeah. Camminando ti rendi conto che non sei speciale e scivoli via dalla vita in silenzio come tutti è l'esperienza di tutti le specificità non contano ognuno è tutti è l'esperienza di fare